Carissimi amici ed amiche, io stamattina voglio dire qualche parola su un altro fatto di un altro femminicidio di cui ieri si è parlato a quarto grado e che nelle settimane scorse non abbiamo avuto il tempo di poter analizzare ma c'è poco da analizzare, solo parole di solidarietà per la fine di Marilisa Leo, 39 anni, di Mazzara del Vallo, originaria di Salemi che il 6 settembre trova la morte perché il suo ex marito Angelo Reina, 43 anni, le spada tre fucilate all'addome. Ora è uno dei tanti femminicidi perché oggi andiamo a dire quattro parole perché questo femminicidio che in effetti sono tutti simili ma tutti poi hanno delle caratteristiche peculiari fa parte di un femminicidio in cui, mi dispiace dirlo, la donna sottovaluta il pericolo e diventa complice in qualche modo del suo assassino. Questa era una coppia che stava insieme da non tantissimi anni, nel 2017 poi c'è stata la separazione, tutto, avevano una bimba nata nel 2018 però poi era iniziata violenza, stalkeraggio, ossessione e si era arrivata non solo alla separazione ma alle denunce, alle denunce di queste violenze di tutti i tipi materiali e morali. Poi cosa succede che a inizio 2022 c'è la remissione di querela la remissione di querela perché lei dopo tanta insistenza da parte di lui rimette la querela e come se tornasse sui suoi passi dicesse a se stessa, chissà forse cambia, non si cambia chi fa violenza, non una sola volta ma tantissime volte, non cambia e questo suo credito morale gli ha provocato la morte perché se non avesse rimesso la querela e quindi non si fosse riavvicinata tutto ciò non sarebbe successo. Eppure i segnali c'erano tutti, lo stalker, il terzole, il cliché era quello l'aveva denunciato e poi cosa fa? Alla fine va a cosiddetto e fatale appuntamento chiarificatore perché lui diceva, vabbè, parliamo dei mancati versamenti per il mantenimento eppure questa storia come tante altre storie inizia come una favola. Abbiamo visto le immagini del primo gennaio 2017 in questa famosa vacanza, mi sembra in Costa Rica se non sbaglio abbiamo visto lei contenta perché era una donna in casiera, sommelier, imprenditrice insomma belli e innamorati si diceva, lei rimane incinta a questa bellissima bambina nel 2018 poi ecco che la mente umana è pericolosa inizia la possessività, inizia il considerare la donna oggetto iniziano le gelosie, le paranoie e quando inizia questa la donna dovrebbe cominciare a scappare letteralmente e tanto è vero che Marisa lascia questo compagno pochi giorni prima della nascita della bambina prima della nascita perché non ce la faceva più non ce la faceva più, la pedinava, la solcherizzava in tutti i modi ha avuto questo soggetto anche una condanna per atti persecutori eccetera poi che cosa fa? Ha la remissione di querela dopo tante insistenze dice di voler recuperare un rapporto con la famiglia dice che si pende di aver sbagliato e poi le dà quell'ultimo fatale appuntamento visto e considerato che le cose poi alla fine non cambiano lo aspetta, l'aspetta al vivaio, al suo vivaio con la scusa di farle riprendere la bambina e l'ammazza contro i fucilati e poi si va ad ammazzare si va ad ammazzare fa 70 km si va ad ammazzare su un viadotto ora al di là del fatto che si sia ammazzato o meno o che magari come avviene in altri casi questi personaggi, non so, vadano pure alle sgassolo ciò che non cambia è il femminicidio perché in questo caso qui noi non ce la possiamo prendere nemmeno con gli organi di polizia o con coloro che dovevano tutelare perché lo sbaglio è stato fatto quando, mi sembra nel gennaio 2022 con la remissione di querella c'è stato questo di avvicinamento no è un appello è un appello perché è un appello che che potrei fare anche se dal piccolo di questo canale quando una persona imposta il rapporto in un certo modo basato sul controllo la possessività la gelosia lo stalkeraggio le mani reforti non pensate di fare la minestra riscaldata non pensate che chi fa questi questi gesti questi comportamenti possa cambiare c'è un proverbio che dice chi te la fa una volta te la fa per sempre ma io non voglio essere nemmeno così oltransista perché nella vita una volta può capitare a tutti quanti di sbagliare in un certo modo ma quando abbiamo queste evoluzioni così drammatiche non parliamo di una volta non parliamo di due volte parliamo a volte di anni di versazioni materiali e morali ripetitamenti che ti trovi questa persona davanti dietro che ti segue che fa che ti minaccia che ti lascia bigliettini messaggi ormai con i social ti piovono i messaggi anche sui social di tutti i tipi e allora possibile mai che alcune donne si fanno complici dei loro carnefici possibile mai ma dico io in questa società così si dice oggi moderna e libera che tutti quanti sono liberi fanno quello che vogliono ci sono ancora queste situazioni e quante voglio concludere dicendo questo guardate che ogni tanto il femminicidio è la punta di un iceberg io nella nella mia vita insomma ho avuto anche a che fare lavorare in uffici con l'assistente sociale so di cose incredibili decine centinaia di coppie in cui la donna è sottoposta è sottomessa per meglio dire sia per dipendenze economiche sia per paure e quanti e quanti ce ne stanno che non finiscono fortunatamente in femminicidi ma è una mostra morale anche quella cioè di fare una vita sottomessa a un uomo violento e magari poi vanno a celebrare i 40 anni di matrimonio un matrimonio fatto di violenza di sopraffazione in cui la personalità della donna è distrutta annichilita annientata come è possibile vorrei rivolgermi alle giovani ragazze alle giovani donne come è possibile che voi accettiate il nome dell'amore un amore malato no ma lui cambia a volte persone che vengono picchiate e non vanno a denunciare che se hanno delle lesioni che vanno alle cure ospedaliere dicono di essere cadute di essere sbattute nei muri nelle porte cadute per le scale purtroppo mi dispiace dirlo a volte le donne sono complici di se stessi quindi dei loro carnefici voglio dire quindi è un aspetto culturale anche questo quello della violenza ma anche quello di insegnare alle donne di scappare al primo segno di violenza in questo caso c'è stata un'altra vittima di una giovane e brillante donna Marisa che lascia una bambina grazie amici miei condividete pure questo video con tutti vi voglio bene buon fine settimana a tutti un abbraccio a tutti quanti voi ciao a presto grazie a tutti